Due campi centrali, altrettanti derby, tanti punti pesanti in palio. Nella decima giornata del girone H i fari saranno puntati principalmente sul D'Angelo di Altamura e sul città dei Gliulivi di Bitonto. In campo quattro pugliesi con obiettivi e stati d'animo differenti ma anche con uguale fame di punti. A Bitonto, con fischio d'inizio alle 15.30, i neroverdi di Roberto Taurino, al ritorno in panchina dopo tre turni di squalifica, sono chiamati a difendere la vetta della classifica. Conquistata a suon di 3-0, prima al Taranto, poi nel domicilio del Brindisi e con una porta imbattuta da cinque turni. Di fronte il casarano di Pasquale De Candia che torna in una piazza che conosce bene da avversario e lo fa senza russo, vittima di un affaticamento muscolare, ielo e allegretto. Salentini in serie positiva da cinque turni e rilanciati in chiave playoff. Stessa pellicola che si augurano di vivere con un'ora di anticipo sul calcio d'inizio, Tim Altamura e Audace Cerignola. Di fronte al D'Angelo ci saranno due formazioni che sin qui hanno reso al di sotto delle attese. Dieci i punti dei Murgiani di Monticciolo che ritrova Guido tra i pali e chiede ai suoi una prova di sostanza per dimenticare proprio il K.O. di Casarano. Un punto in più per i gialloblu di Alessandro Potenza, tornati al successo grazie al 2-1 interno alla Gelbison e costretti a rinunciare ancora allo squalificato Martinello. Sfida dell'ex per Pollidori nell'ultimo triennio a Cerignola e ora tra i perni del club Altamurano. Sfida casalinga per il Foggia. I ad areste e soci, freschi di blitz sul campo del Nardò, attendono allo zaccheria la matricola Grumentum. I satanelli riavranno a disposizione in panchina dopo la squalifica Mr. Nini Corda. Obiettivo del team di casa proseguire un filotto positivo che perdura da otto partite e sperare nel sorpasso al Bitonto. Stessa missione del Fasano, a pari punti con il Foggia a quota 18, che al curlo attende l'Agropoli. Squadra in crisi nera e impelagata in zona retrocessione. Sfida sulla carta favorevole per Ganci e compagni. I campani non vanno a segno da cinque partite e hanno incassato 13 reti tra Fidelisandria, Francavilla e Gravena nelle ultime tre uscite. Weekend con valigia al seguito per Taranto e Brindisi, costrette a far punti per tenere la vetta a vista. Il gruppo di Panarelli sarà ospite della Gelbison a Vallo della Lucania, mentre la squadra di Massimiliano Olivieri, a caccia di risultati per blindare classifiche e panchina, farà visita al sorrento dell'ex Maiuri. Dopo il pocherissimo all'Agropoli, invece, il Gravina indossa l'abito da trasferta e cerca di trovare il primo segno due in stagione sul terreno del Francavilla Insigni, formazione in ripresa dopo un avvio di campionato estremamente negativo. Complete il calendario di giornata, il derby campano tra Gladia Torrenocerina.